ciao a tutti ragazzi si è tornato a un nuovo video no siamo tornati su mini wall quando andiamo a combattere si sta bene tanto faccio finta che sto cascando ma non è vero addio e addio anche te ho preso no 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 oddio no qua ci sono è molte espressioni Oddio, è davvero complicata la situazione, qua c'è il mob da noi, saluto, ma non è vero, il mio piano non è funzionato. Questi? Cosa serve? Bo, ma dai, adesso devo fare un piano d'attacco, no, non è funzionato, non è funzionato, lo posso fare così, dobbiamo andare tanto, zero zero, devo fare un piano d'attacco in alto, che espressioni ci sono? Ciao! Nooo! Ma non ci sono molti zombie e mob, faccio un piano d'attacco, che non è funzionato, no, uno in faccia, in faccia, ma perché non c'è dai punti? aspetta, uuuh, quel shot, ciao, che rumore che fa? non funzionato, non funzionato, guardate con questo. mi è arrivato proprio nello stomaco, mi è arrivato, perché esplosione... è in faccia, me ne ho un palazzo, l'ho preso, l'ho preso, sì... no che notte che non sta funzionando dov'è? dov'è andata? qua io distruggo tutto allora eccola lì eccola lì eccola lì eccola lì c'è ancora va che? un motivo! le puto spaventare calma 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 Ma sei il giocogliere? Gabriela, il giocogliere. Aspetta che qua mi ha trovato. Dove posso andare? Se... Non ci arrivo. Non ci arrivo. Ora... Il nato. Il vedessi. Aspetta, io ho riesco a andare fuori dal mapa. Il faccio vedere il testo grande. D'attacco. D'attacco. D'attacco, 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 d'attacco. Vado qua. Ho scoperto il mio posto. Vado via. Ho scoperto il mio posto. Ho scoperto il mio posto. Adesso vado. Un'altra parte. Ho pochissima vita. Dieci di vita. Ho scoperto il mio posto. Ma perché non ci dai punti? Non ho capito questo. No. Dai. Mi piace ogni cosa. E qual è ma questa cosa? Oh, scusco scritto. Piede l'attacco. Qua. Sorpresa. Sono grande. Vai, che meglio. Un punto. E siamo forti. Una squadra imbattibile. Ora? È andata via. Che si fa? Abbiamo proprio finito tutto. Ora vado in vacanza io. E... A rivederci. Bene. Faccio così. Te sto andando e ciao. Vabbè. Che si fa? Non riesco ad andare là. Abbiamo sconfitto. Facciamo i scherzi? Ecco. Oh, sì. E' ritornato un'altra. E' ritornato. Un'altra. Un'altra. Talla. Umba aperta. E' ritornato. E' ritornato. E' ritornato. E' ritornato. bene al massimo faccio dove sarà ecco lì vengono al massimo al massimo dove sono qua faccio che ti oh che sono spiderman qua solo no 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 oppo oppo testo di grande 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 e ciao ragazzi questo è Minual di Comandimento e ciao